Ciao a tutti amici di Esperenze Nobile, siamo qua allo stand Microsoft dove sono appena stato ripresentati il Lumia 640 e il 640XL. Cominciamo dal 640, ha un display da 5 pollici HD, devo dire abbastanza discreto. Le conici sono un po' grosse, soprattutto ai lati, questa è un po' una pecca. La fotocamera anteriore ha una 5 megapixel e una 8 megapixel, quella posteriore con flash LED e autofocus e qua in basso abbiamo un altoparlante di sistema. Ci sono varie colorazioni come sempre, il processore è un quad core Snapdragon 64bit 410 da 1.2 GHz che diciamo arriva a sia versione 3G che 4G, quindi il prezzo della versione 4G sarà di soli 170€, un prezzo decisamente interessante. Ovviamente Windows Phone 10.1, Cortana e tutte le funzioni che già possiamo conoscere e immaginare. Quindi per questa brevissima preview è tutto. Adesso mostrerò anche il Lumia 640XL. Come sempre state connesi, accette tanti mi piace, tante condivisioni e iscrivetevi al canale. Per di più commentate per dire cosa ne pensate. Ci vediamo nei prossimi video. Un saluto a tutti da Lorenzo per Esperenza Mobile. Ciao!